Sta partendo questa nuova avventura, Fogara 2022. Sarà qualche sorpresa in più? Quest'anno ci dà qualche anticipazione? C'è qualche novità. Ho accennato che il falò quest'anno avrà la caratteristica di un colore diverso rispetto a quello degli altri anni, un colore bianco, e mi è stata anche spiegata la motivazione, perché il Comitato ha voluto la Fogara di questo colore, per omaggiare i cosiddetti camici bianchi, infermieri e dottori, che ringrazio a nome mio e di tutta la comunità novolese, che in questi due anni di pandemia sono in prima linea per cercare di sconfiggere il Covid. Tutto pronto quindi per l'attesissimo spettacolo in onore di Sant'Antonio Abbate, che quest'anno avrà un costante richiamo all'emergenza pandemica. Assessore, possiamo dire che ormai siamo al countdown per la Fogara di Sant'Antonio Abbate, quali saranno le sorprese che i vostri cittadini e i nostri tre spettatori potranno avere quest'anno? Sicuramente sarà un'edizione da non dimenticare, perché l'obiettivo di tutta l'amministrazione è proprio quello, sin dall'origine, di dar vita ad un evento che fosse del tutto normale, nel senso che rievocasse le vecchie focare di anni fa e purtroppo il 23 dicembre la scura del decreto ministeriale ha nuovamente imposto di vieti di eventi all'aperto, per cui siamo ritornati nelle restrizioni più assolute precludendo la possibilità ai nostri concittadini e ai pellegrini di poter vivere dal vivo l'accensione. È una festa molto importante e sentita, 16 a 17, 18 sono tre giorni, chiamati giorni del fuoco, ma il di Sant'Antonio Abbate, perché Sant'Antonio Abbate è l'attore principale, il protettore di Novoli. Noi come comunità parrocchiale ci siamo preparati, ci siamo preparando da mesi per questo evento così importante. Anche quest'anno saremo...